Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Terra Amara è in corso. Ci sarà un colpo di scena clamoroso nella settimana dal 21 al 25 agosto 2023 che sconvolgerà soprattutto la povera Zuleya. In effetti, quest'ultima scoprirà che Mujgan sta aspettando un bambino, il che la convincerà a pensare che Yilmaz le abbia sempre mentito sui rapporti intimi con la moglie. Tuttavia, prendiamo un po' di tempo per riflettere prima di vedere ciò che sta per accadere. Terra Amata, dove eravamo rimasti. Zuleya partecipa a una riunione delle damme di carità, a cui Beice ormai partecipa regolarmente. Ne approfitta l'Alton per accusare la zia di Mujgan di aver ucciso Unkar. Beice accusa Zuleya di calugnarla, ma ormai ha insinuato il dubbio in Fecheli, che caccia Beice da casa. La zia di Mujgan si fa addirittura aggredire piuttosto che lasciare Adana, ma la cosa sfugge di mano e rimane gravemente ferita. La dottoressa accusa Zuleya di aver fatto aggredire Beice, avendola accusata di aver ucciso Unkar. Demir tiene una conferenza stampa e promette cifre elevate a chiunque sappia aiutarlo a trovare l'assassino di sua madre. Gaffur cerca di scoprire la verità e scopre che Unkar aveva le prove degli omicidi di Beice. È facile identificare il colpevole a questo punto. Lunedì 21 agosto 2023. Gaffur scopre che Unkar è stata uccisa da Beice perché aveva le prove degli omicidi che ha commesso ai danni dei suoi due mariti. Prima di parlare con Sanje, Gaffur viene fermato dalla stessa Beice. Adesso che Beice è uscita dall'ospedale, la donna si rende subito conto che Gaffur ha in mano lo stesso fascicolo con cui Unkar l'aveva minacciata per le informazioni compromettenti. Beice minaccia Gaffur di tenere la bocca chiusa, altrimenti renderà pubbliche le prove che ha e che dimostrano che è stato lui ad assassinare Atip. Riesce a prendere il fascicolo da lui, evitando così qualsiasi accusa contro di lei. Yilmaz è geloso per il modo in cui Zuleya si è comportata durante la conferenza stampa di Demir, quando gli ha tenuto la mano, quindi affronta l'Althun e le chiede se vuole davvero scappare con lui e se ha smesso di comportarsi come la moglie di Demir in privato. Martedì 22 agosto 2023, Zuleya rimane negativamente colpita dalle accuse di Yilmaz e iniziano una discussione molto difficile. Mujgan ascolta la conversazione e scopre da questo litigio che Yilmaz era pronto anche ad abbandonare suo figlio Kerem Ali per fuggire con la sua Zuleya. Mujgan segue Zuleya ed entra nella sua stessa farmacia. Mujgan sventola il foglio di un referto medico che attesta che è incinta mentre parla con la farmacista e chiede integratori utili per la gravidanza. Zuleya ne rimane sconvolta e le chiede di spiegare. Mujgan le conferma che Kerem Ali presto avrà un fratello. Zuleya è furiosa e si sente tradita dagli Yilmaz, che le aveva giurato mesi prima di non avere più rapporti intimi con Mujgan. Nel frattempo, Beyice si reca ad un nuovo raduno delle dame di carità e dice alle presenti che è stata aggredita da tre uomini che la accusano di aver ucciso Unkar, come Zuleya aveva affermato pubblicamente. Quindi Beyice finge di essere compassionevole e dice che non denuncerà Zuleya per istigazione all'omicidio, perché non vuole separarla dai suoi amati figli Leila e Adnan. Mercoledì 23 agosto 2023, Zuleya si reca da Yilmaz e lo affronta, dicendogli che non capisce come abbia potuto rivolgerle accuse infamanti come quelle del giorno prima, se anche lui ha rapporti con Mujgan. Akkaia le chiede spiegazioni. Non capisce a cosa si riferisce Zuleya. Gli svela che sua moglie è incinta di nuovo, con un referto medico che lo conferma. Yilmaz si ritira subito e si reca a casa, urlando contro Mujgan affermando che ormai tutti sanno che è incinta. Sebbene la dottoressa riconosca di esserlo, Yilmaz sottolinea che il bambino non può essere suo, perché non hanno nessun tipo di rapporto da mesi. Tuttavia, Mujgan fornisce una sua versione dei fatti, affermando che hanno avuto un rapporto intimo la sera in cui è tornato ubriaco da un evento, e che probabilmente adesso non ricorda questo rapporto. Yilmaz non ci crede, ma Beyice difende la nipote dicendo che non può mettere in dubbio il suo onore in questo modo. Anche Ali Rahmet si schiera in favore di Mujgan, dicendo ad Akkaia che probabilmente non ricorderà la serata in cui hanno fatto l'amore a causa dell'alcol. Giovedì 24 agosto 2023, Gaffur inizia a dubitare di Sermin, pensando che sia stata lei a dire a Beyice che è stato lui ad assassinare Atip perché Sermin sembrava avere informazioni su questo. Nonostante ciò, Gaffur si presenta al comune di Kukurova e compila tutti i documenti necessari per ottenere un passaporto che gli consente di andare all'estero. Sembra che Gaffur voglia evadere la sua responsabilità per l'omicidio di Atip, ma non prende una decisione definitiva sulla sua partenza perché dovrebbe lasciare Sani e Uzzum. Zuleyha informa Yilmaz che la loro storia è definitivamente finita, perché non crede affatto che Mujgan possa averlo tradito con un'altra persona e aspettare un figlio da un'altra persona. Nel frattempo, Demir scopre che Zuleyha è molto triste e che ha pianto molto negli ultimi giorni, collegandolo giustamente questo fatto alla vicenda di Yilmaz. L'Altun si rende conto che ora la sua vita è nella tenuta Yaman. Insieme a Sanye, decide di prendere il controllo delle mansioni degli operai e delle questioni della tenuta, prendendo il posto della defunta Unkar. Venerdì 25 agosto 2023, Zuleyha si sta occupando della tenuta, mentre Yilmaz si sente ferito. Demir è felice di quanto sta facendo Zuleyha. Akaya comunica all'Altun che farà la prova che non è il padre del bambino che Mujgan sta aspettando. L'Altun lo invita tuttavia a concentrarsi sulla sua nuova famiglia con la dottoressa, poiché i due bambini non meritano di rimanere senza padre a causa di una relazione che non ha più senso. Yilmaz, d'altra parte, decide di non arrendersi e vuole riconquistare Zuleyha poiché iniziano a diffondersi voci che Fikret e Mujgan hanno una relazione. Con la convinzione che il bambino sia quindi di Fikret, Yilmaz lo raggiunge e gli punta contro una pistola, costringendolo ad andare in un luogo isolato. Fikret smentisce categoricamente di aver mai avuto una relazione con Mujgan e afferma che in questa gravidanza lui non ha alcun coinvolgimento. Qual è la tua opinione? Credete davvero che Mujgan aspetti un figlio dagli Yilmaz, oppure che cosa sta succedendo davvero? Grazie per i commenti. Anticipo Terra Amara per le puntate turche. Sevda si rende conto di essere la madre di Umit. I telespettatori avranno la possibilità di conoscere Umit durante le puntate turche di Terra Amara. Anche perché Demir inizierà a provare attrazione per lei e tradirà la moglie, Umit diventerà un personaggio sempre più interessante. Nonostante ciò, Sevda farà una scoperta sconvolgente. Sevda scopre un'immagine di Umit e scopre la verità. I telespettatori conosceranno Umit durante le puntate turche di Terra Amara. Quest'ultima è un medico che lavora presso l'ospedale con Mujgan. La prima persona a conoscerla è Demir, e tra loro nasce una forte simpatia. Demir e Umit instaurano rapidamente una relazione clandestina, dal momento che Yaman è ancora sposato con Zuleya. Sevda sa di questa relazione, e non è felice del modo in cui si sta comportando Demir. La situazione peggiora quando Sevda fa una scoperta. Per caso, quest'ultima vede la foto di Umit quando era molto più giovane, e la riconosce subito come la figlia con cui per qualche motivo non ha più avuto rapporti. Sevda viene ricoverata immediatamente in ospedale perché dopo questa scoperta le viene un infarto. Zuleya è una delle prime persone ad avere le informazioni, e si precipita immediatamente all'ospedale per dare supporto a Sevda. Il rapporto di Altun con la seconda madre di Demir è migliorato da quando quest'ultima la difesa a spada tratta quando Yaman voleva toglierle i suoi figli. Zuleya continua a sostenere Sevda anche dopo che finalmente è uscita dall'ospedale. A causa dei suoi problemi cardiaci, la donna viene riportata a casa e necessita di cure continue. Per questo motivo, Altun decide di dedicarsi completamente a lei, rimanendo sempre con l'amante di Adnan. Le cose peggiorano ancora quando Umit visita Sevda. La donna le assicura che non la perdonerà mai per la sua assenza come madre. Le parole aggressive che Umit rivolge alla madre fanno peggiorare la situazione di Sevda. Zuleya continua a stare accanto alla donna, mentre Umit non si pente per le sue parole. Demir rimane all'oscuro di tutto, mentre Umit diventa sempre più importante all'ospedale, e Zuleya è delusa per i tradimenti del marito che le aveva sempre detto che non l'avrebbe mai lasciata e che l'amava molto. Qual è la tua opinione? Credi che alla fine Sevda e Umit si riconcilieranno? I commenti sono graditi! Grazie, a presto!